Amiche ed amici bianconieri mi raccomando, iscrizione al canale, likes e commenti. Per Garofani che para, atterra, avanza Sabuna, si fa vedere Cerri che vuol far correre Mbangula, il guizzo di Mbangula prova a resistere su di lui Oberten, Mbangula in area, occasione, Oberten non gli permette un tiro facile. Lancio lungo di Imaressa, la corsa di Mbangula che prova davanti a Radunovic, se la cava con i piedi, il portiere serbo è chiuso sull'inserimento di Samuel Mbangula. Prende la rincorsa Doratiotto, va col sinistro, lungo, secondo palo, c'è la torre in mezzo, colpo di testa di Mancini, pallone che rimane in area, Doratiotto sbuccia un po' col sinistro e di controbalzo, conclusione di prima intenzione che finisce alta, sopra la traversa, tocco corto, numero di Oristanio, Macumbu, zona tiro, invitato a calciare dai propri tifosi, perde l'attimo, perde anche il pallone. De Marino, centrale, a terra un giocatore della Juve ma si prosegue, ah sì, chiude troppo con il destro, era una buona chance per il numero 37, c'è stata però anche una deviazione, allora si andrà con il calcio d'angolo. Mucchio in area per sfruttare questo calcio d'angolo, Cagliari nuovamente a ridosso dell'area bianconera, va Viola, cross lungo, la raccoglie Luvumbo, finta col destro, va col sinistro, arriva l'1-0, rosso-blu al 26esimo, la sblocca. Zito Luvumbo, Viola, lancio lungo, cercare Luvumbo, difesa un po' scoperta, scivola, Gori Luvumbo, doppietta per l'angolano che sfrutta al meglio lo scivolone di Gori. Viola, Luvumbo, pallone spila, Nandez può calciare lui, perde l'attimo, ne ha due addosso ancora, Nandez, Luvumbo subentra, altra finta, Luvumbo vuole andare fino in fondo. 3-0 Cagliari, Luvumbo a trick, al minuto 44. Arriva il Tris, proprio al novantesimo, controlla il cronometro l'arbitro, senza recupero, finisce qui, il primo test per la Next Gen, che perde 3-0 contro il Cagliari, ma comunque una prova da cui trarre buone indicazioni per Brambilla, saluto proprio tra i due allenatori.